PEGI 18 Hai trovato la nostra fortezza. Hai riportato mia figlia. Ma che cosa stai cercando? Vuoi diventare uno di noi? Vuoi impadronirti dell'oscurità? Pancchettare con le anime dei vivi e dei morti? O sei uno di loro? I Dongard credono di poterci fermare ma noi li troveremo. Le antiche pergamene saranno mie e la tirannia del sole avrà fine. Grazie. 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 Grazie.